Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge che potenzia l'intervento regionale a sostegno dell'economia toscana attuato tramite la Società di Sviluppo Toscana S.P.A. Hanno votato a favore PD e Italia Viva, contrari tutti i gruppi di opposizione. All'esito del voto si è giunti dopo un lungo dibattito i numerosi interventi dei consiglieri di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia su ognuno degli otto ordini del giorno collegati alla legge presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia e tutti respinti dall'Aula. Sviluppo Toscana diventa l'agenzia che si occuperà di tutta la parte imprenditoriale e anche molto altro. Diventa uno strumento operativo, uno strumento esecutivo che vuol stare a fianco alle imprese e quindi riguarderà indirettamente anche tutto il collegamento con Sici, con Fidi Toscana e facciamo in qualche modo una rete di tutti gli strumenti che la regione toscana ha messo a punto per affiancare il delicato momento anche della fase economica che stiamo vivendo. Quindi ci aspettiamo che sia uno strumento flessibile e che possa essere messo a fianco delle imprese e che va dunque a lanciare la Toscana nel panorama non solo nazionale ma soprattutto internazionale quindi cogliendo anche quelle sfide di mercato che è cambiato molto in questi momenti e che necessita da parte della regione di avere uno strumento che sappia affiancare le aziende per cogliere tutte le opportunità. Una legge presentata dalla Giunta a luglio ferma nei cassetti della prima e della seconda commissione fino a pochissimi giorni fa, non attenzionata dalle commissioni, non discussa, non condivisa, arriva alla fine dell'anno quindi ferma per più di sei mesi, una posizione solitamente contraria per quella che è la visione oggi di sviluppo toscana, non sappiamo quale sarà la fine di Fidi e già pensiamo a una nuova società in house, anche qui mancata programmazione. Il Presidente Gianni in campagna elettorale aveva annunciato che Fidi diventasse la società in house per eccellenza della regione toscana, oggi ci troviamo affinché le quote di Fidi vengano vendute. Sviluppo toscana dovrebbe diventare la nuova società in house di regione toscana con un CDA totalmente nominato, quindi un consiglio di amministrazione che è sempre competenza del consiglio regionale, nominato direttamente dal Presidente, quindi non ci sarà nemmeno una possibilità di controllo da parte delle opposizioni in questa nuova società che dovrà nascere, una mission che ancora non è chiara, non sappiamo cosa succederà di Sici, quindi tutto un iter che ha portato alla non approvazione, la non condivisione di questa proposta di legge che mette appunto in identifica come oggi la giunta regionale anche su questo stia lavorando. Nel caos senza condivisione degli atti né con l'opposizione ma da quello che abbiamo ascoltato nemmeno in larga maggioranza e quindi noi anche su questo denunciamo che così le nostre imprese toscane soprattutto nel momento di crisi che stanno attraversando hanno bisogno di una Fidi, di una finanziaria regionale seria e non l'avranno perché ancora non sappiamo quale sarà la fine dell'una e la fine dell'altra. La vicenda di sviluppo toscana si inserisce all'interno di un quadro più ampio che è quello di dotare anche la Toscana, anche la regione toscana di una società che possa in qualche modo sostenere e accompagnare il tessuto produttivo e imprenditoriale regionale. Noi siamo partiti all'inizio di questa legislatura con la proposta di Gianni di portare in house Fidi Toscana, la regione toscana è proprietaria del 50% di Fidi Toscana quindi la proposta del PD era compriamo dalle banche anche il restante 50% per poter avere una società che può fare credito e che sostenga il nostro tessuto imprenditoriale. Siamo arrivati al punto esattamente opposto, una sorta di salto mortale dal trampolino carpiato dove anziché comprare il 50% che non avevamo la regione toscana ha messo in vendita il 50% che ha per poter provare a fare con sviluppo toscana ciò che avrebbe voluto fare con Fidi Toscana. In realtà è un pastrocchio assoluto aggravato dal fatto che sviluppo toscana anziché avere un amministratore unico come aveva fino ad ora avrà con la nuova legge approvata un consiglio d'amministrazione nominato per intero dalla giunta che costerà più soldi. Di fatto la regione toscana rimarrà senza un soggetto che possa fare credito, che possa sostenere le imprese e le attività produttive toscane anche e soprattutto in virtù del fatto che in Toscana non ci sono più le banche e che quindi le banche chi dà soldi alle imprese a testa e gambe in altre regioni o addirittura in altri stati e questa soluzione non è una soluzione definitiva. Quindi noi riteniamo che se sia fatto una montagna che abbia partorito un topolino si poteva fare molto di più anche seguendo quello che fanno le altre regioni. Si struttura un soggetto istituzionale importante in house della regione toscana, un soggetto in grado di intercettare fondi comunitari non solo a servizio della nostra regione, per i comuni, per le imprese, in grado di veicolare per i prossimi sette anni i finanziamenti di carattere comunitario, la Toscana aveva bisogno e necessità di un soggetto economico forte che facesse da volano di risorse per la nostra regione. Il futuro della Toscana passa dagli investimenti per le imprese, per gli enti locali, per le aziende sanitarie, i processi di innovazione che non possono non intercettare grandi fondi comunitari, quelli del PNRR, fondi nazionali e credo che noi abbiamo fatto una scelta di coraggio che va nella logica riformista che da sempre abbiamo sostenuto come gruppo d'Italia Viva, mio all'ordine del giorno, che all'inizio di questa discussione andava in questa direzione e credo che oggi l'Aula dà ragione alla nostra visione, al coraggio di cambiare, al coraggio di strutturare un'azione di governo innovativa per la nostra regione. Il gruppo Toscana è stata una pagina controversa e difficile da parte di un Consiglio regionale che anche in questo caso si è ritrovato a dover discutere su una proposta di legge dopo come dire, una seduta a fiume che naturalmente però arriva in un contesto ancora fortemente incerto anche perché è legata al futuro della finanziaria regionale. È un'operazione assolutamente ambiziosa, un'operazione che vede dal nostro punto di vista molte criticità ancora irrisolte, anche e soprattutto il ruolo e comunque il contemperamento diciamo tra la sopravvivenza di Fili Toscana e ciò che invece si vuole creare con questa agenzia di sviluppo. Vedremo se col tempo si riuscirà a chiarire ciò che intende la Giunta per braccio operativo del sistema economico regionale. Ciò che è certo è che oggi in questa fase storica ci ritroviamo senza quello che dovrebbe essere stato invece uno strumento che doveva già essere pronto per sostenere soprattutto le amministrazioni locali in questa fase così delicata. Ma non solo le amministrazioni locali, aggiungo più in generale anche le imprese che oggi si sono trovate in estrema difficoltà e aggiungo anche le famiglie che oggi con il cario energia naturalmente si sono trovate a dover far fronte a costi totalmente inaspettati se pensiamo anche all'inflazione. Quindi un sistema di sostegno che andava naturalmente messo a punto per tempo. Questo non è stato, questa è una proposta di legge che diciamo nei tempi stretti poteva naturalmente essere migliorata anche sotto il profilo di alcuni aspetti più squisitamente giuridici ma che non cambiano la sostanza. Essere arrivati in tempi stretti a licenziare un provvedimento che ad oggi è comunque sia solamente parziale e che non dà in questo momento delle risposte a ciò che invece ambirebbe a voler sostenere. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge per l'acquisizione al patrimonio regionale degli immobili Tettuccio, regina ed Excelsior, di proprietà della società terme di Montecatini S.P.A. Hanno votato a favore tutti i gruppi consigliari ad eccezione del gruppo misto Toscana domani che ha espresso voto di astensione. Via libera anche a un ordine del giorno che dà indirizzi alla Giunta per la valorizzazione del patrimonio acquisito e per le altre realtà termali della Toscana. È una legge che dà mandato alla Giunta regionale di procedere con l'acquisto dei beni Tettuccio, regina ed Excelsior come beni identitari storici della città e non solo patrimonio dell'UNESCO per quanto riguarda il termalismo e soprattutto destinati ad un progetto di valorizzazione culturale al quale il Presidente sta già lavorando. Credo che questa sia la svolta per la città di Montecatini sia per assicurare, come abbiamo sempre affermato, la necessità che quel patrimonio così di alto valore sia assicurato alla proprietà pubblica e quindi alla fruibilità di tutti i cittadini, sia la possibilità di sviluppare appunto una nuova progettualità che consenta in un momento ancora di crisi del turismo termale di poter puntare su assi culturali sulle quali sicuramente il territorio ha molto da spendere. Quindi una pagina davvero fondamentale che ovviamente consentirà anche di far sì che i soci, la società possa presentarsi davanti al giudice fallimentare avendo in mano delle proposte di acquisto da parte di Fondazione Cassa di Risparmio da parte del Comune di Montecatini e una legge regionale che appunto va in questa direzione. Io mi auguro che questo sia la condizione per poter vedere validato il concordato in bianco e poter in qualche modo dare una nuova vita alla società ma soprattutto alle attività turistiche di valorizzazione di quella città e del territorio della Val di Nievole. Sì, risvolta positiva sulle terme, il fatto che la regione approva intanto un atto di indirizzo importante che trova la mia firma dove le terme di Toscana tornano varicentiche rispetto alle politiche dell'agire toscano. Nei prossimi tre mesi approvando un piano regionale di sviluppo troveremo il concetto di terme di Toscana che più volte ho sollecitato e nel contempo una prima misura che va in questo caso specifico su Montecatini con risorse importanti di 16 milioni per arrivare a fare un intervento di carattere culturale su degli immobili che diventeranno di proprietà della regione, se la nostra proposta verrà accettata, nel contempo su Chianciano progetti di riqualificazione e rivitalizzazione urbana rispetto a liberare degli spazi urbani nella città con delle risorse che verranno finanziate nel corso dell'anno, due impegni, uno già a bilancio, l'altro un impegno assunto dal Consiglio regionale. Credo che due interventi in città termali così importanti si aspettavano da molti anni. Presentata in Consiglio regionale, un'indagine nazionale commissionata dall'Associazione Italiana delle Scuole di Musica, che ha rilevato dati straordinari per la Toscana, ben 65.000 allievi iscritti a 500 scuole, con 6.800 insegnanti impiegati, 4.000 sono gli allievi di origine straniera e 1.400 quelli diversamente abili. Queste istituzioni, diffuse in tutto il territorio regionale, sono portatrici di valori come l'inclusione, che le rende presidi per la socialità e l'educazione, oltre che per la formazione musicale specifica. In Toscana abbiamo 500 scuole di musica, 65.000 allievi delle scuole di musica e un numero di insegnanti pari a 6.800, quindi un numero di impiegati, di addetti al settore davvero rilevante, che probabilmente rientra in quei 100.000 lavoratori che con gli stati generali stiamo osservando nel fai contare la cultura negli stati generali della regione toscana. Un dato molto importante è la capacità di integrazione di questo settore formativo, che coinvolge 1.800 studenti disabili, che frequentano le scuole di musica, hanno spesso piani di formativi personalizzati e in questo, devo dire, la Toscana ha buoni risultati, ma molto ancora si può fare. È un rapporto che nasce dall'esigenza di trovare visibilità per questo comparto formativo, riconoscimento a livello nazionale e regionale e anche disciplina, inquadramento e relazioni istituzionali. Devo dire che in Toscana il rapporto con la scuola, ad esempio, il supporto all'offerta formativa è molto sviluppato, con un dato che supera di diversi punti percentuali il dato nazionale, ma ciò non significa che non manchi un inquadramento generale. Con gli stati generali vorremmo accogliere i risultati del rapporto nel quadro dei dati che stiamo costruendo e anche inserire le richieste delle scuole di musica nelle risoluzioni che gireremo al governo e nei nostri atti determinativi, proprio perché si tratta di un comparto che forma e offre anche delle ispirazioni poi professionali, per molti che le frequentano, ma anche per chi poi non lavora con la musica, genera un'opportunità formativa che condiziona positivamente poi il rapporto con l'offerta culturale del territorio nella popolazione adulta. Quindi un settore da custodire, da valorizzare e da sostenere. Una esigenza fondamentale alla quale stiamo lavorando è quella dell'accreditamento, cioè le scuole di musica sono le prime a chiedere che vengano individuati criteri e parametri di qualità in modo da non essere confuse con chi genericamente, in modo improvvisato, offre una formazione musicale, ma da poter stabilire un requisito di accreditamento per le scuole che hanno rapporto con le istituzioni pubbliche, spesso si sentono in uno spirito in linea con il principio di sussidiarietà che sappiamo ha rilevanza costituzionale, veri e propri collaboratori nell'erogazione del servizio formativo sul territorio nazionale e locale. E quindi su questi temi lavoreremo nei prossimi mesi, oltre che appunto a favorire l'aumento dei finanziamenti e il sostegno più generico ai progetti delle scuole di musica. L'associazione delle scuole di musica è nata in Toscana, negli anni Ottanta, perciò noi la sede è a Prato, presso la scuola di musica del comune di Prato, perciò voglio dire l'Aism è nata perché c'è stata la Toscana che è stata anticipata, è stata anticipatrice. Poi, adesso è diventata più nazionale, stiamo cercando di regionalizzare l'associazione, c'è l'associazione in Emilia Romagna, nel Lazio, adesso in Toscana, in Lombardia, stiamo cercando perché la regione è quell'istituzione più vicina, che abbiamo più facilità nel essere non più trasparente, perché uno dei problemi che abbiamo è la trasparenza, ma non nel senso del teore del termine, nel senso che non ci considerano, mentre le regioni credo che da questo punto di vista siano molto più attenti. Quello che noi vogliamo è che ci sia un albo regionale in cui le scuole non parlano di accreditamento, ma di riconoscimento, dove noi mettiamo alcuni paletti di qualità, inclusività, apertura a disabilità, a una pedagogia inclusiva, al fatto della musica d'insieme, cioè alcuni paletti che ci distinguono da scuole che fanno solo il corso per avere qualche allievi in più. Sapete una cosa veramente che ho scoperto anch'io, non lo sapevo? Quando sono andata all'Agenzia delle Entrate a iscrivere la neonata associazione regionale, il codice a teco corrispondente non esiste. C'è quello delle scuole di danza, quella delle scuole di musica non c'è, semplicemente non è neanche percepito come una realtà esistente che ha bisogno di essere identificata. Quindi con l'impiegata dell'Agenzia dell'Entrata abbiamo parlamentato e cercato di capire qual era quello generico che poteva essere un attimino più adatto. Ma questo la dice lunga su come, diciamo, questo settore è percepito non solo a livello psicologico ma anche a livello proprio amministrativo.